...è tempo che quando si veniva di liberare fuori testo la moda GPP aveva, ci dobbiamo aspettare un po' di tempo per si cifrasse completamente. Grazie, grazie, lo spera Pietro Caprara, non lo spera Tim Gresini che è in ginoria. In questo momento il secondo in classifica ha scavalcato Julian Simon, mentre la notizia giornalistica più importante è il calo improvviso, repentino e abbastanza brutale di Paul Espargaro.